Ciao, sono Paolo Baccio e vi presento questo bellissimo Malibu Van, un camper di 6,36, veramente di alta qualità. Se volete vedere la scheda, perché ci sono tantissimi optional compresi, cliccate sulla vostra destra in alto e si aprirà la scheda del nostro sito dove ci sono tutte le caratteristiche optional, chilometri, anno e quant'altro, dimensioni, quanto vi sarà importante conoscere. Ora voglio farvi vedere l'abitabilità del camper. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina perché sarete sempre aggiornati dei nostri video. Andiamo al suo interno. Il Malibu è un camper che da sempre è considerato, e anche da parte mia, un top della produzione. Qui la cucina, questo un piano d'appoggio. Vedete l'attenzione per quanto riguarda, ci sono delle gommine che permettono di non farli vibrare, e questo è un piccolo piano d'appoggio, oppure una cosa del genere, e questo è un altro piano. I due fuochi. Qua le belle cassettiere. Allora, questo camper è tenuto, è ben fatto, ma come vedete è tenuto bene. E non vi nascondo che il piacere che ho a far vedere questo camper sia per la qualità, ma anche perché era di nostri vecchi colleghi. Quindi persone che hanno scelto un camper top, e giustamente da colleghi ormai vanno in giro nel camper e quindi ogni tanto lo cambiano. Quindi vedete quanti bei contenitori. Da quest'altra parte c'è il cassetto che scorre, e qua la zona giorno. Guardate con che tipi di finiture, perché questo è veramente, il Malibu è veramente un oggetto, guardate di questa finitura, qui un altro contenitore, sia a destra che a sinistra, e poi la luminosità, sia per questa finestra, che l'oblò, che la finestra laterale. Quindi belle poltrone, comode, ben rifinite e funzionali. Qua il tavolo che gira e quindi permette a coloro che stanno nel poltrone del passeggero di avere un piano d'appoggio. Quindi un comodo, quattro persone per fare due chiacchiere. Il pensile, il frigorifero con il suo congelatore, poi l'armadio. Guardate com'è grande. La parte posteriore sono i due singoli comodi, che possono essere già per sé, quindi è facile il salire, e quindi dormire per lungo oppure dormire per traverso. Qui ci sono le finestre, sia le due apribile sul lato destro e le due posteriori apribili. Poi, da quest'altra parte, guardate i grandi contenitori e la bella rifinitura anche di questi contenitori qui, che sono molto capienti e funzionali. nello scalino un altro contenitore. I due letti si alzano sia per avere il contenitore da questa parte, in questo modo e anche laggiù, sia anche per poter avere, vedete delle scinghe che si agganciano, avere uno spazio, questo si sposta, quindi queste due, sia a destra che a sinistra, si alzano, e quindi potete avere tutto lo spazio interno per poterci mettere in, se volete, quando l'avete a casa, di poter portare dei mobili dell'IKEA, si va all'IKEA a comprare i mobili, dentro il campo ce li potete mettere tranquillamente. Il bagno, quindi porta scorrevole, guardate come si muove con estrema facilità. qui il bel lavandino, un contenitore sotto il lavandino, un contenitore sopra il lavandino, poi la doccia, quindi guardate come mi muovo bene, qui ci sono le separee che chiudono questa parte, poi tutto è in plastica e c'è lo scarico sia nel davanti che nel dietro, e quindi guardate come muovo bene. Poi, una cosa, perché il bagno è grande? Perché WC si muove, guardate, e esce, e quindi ho una bella posizione quando uso la toilette e quando non la uso c'è anche un bello spazio per lavarmi. Oblò, quindi per scambio d'aria. Qua lo spazio garage, cosa sono questi? Allora, questo camp è omologato da 4 persone, quindi può essere usato in 3 più 1 nella parte anteriore, oppure 2 e 1 nella parte anteriore, oppure, molto molto comodo per 2. qui sotto vedete le misure del garage, sia minime che massime. Come vedete, il com'è tenuto è veramente un grande valore di questo bello oggetto, ben fatto, molto funzionale e molto elegante. quindi, penso sicuramente, vi avrò fatto curiosità per venire a vedere questo camper, oppure potete chiamarci e comprendere da noi se volete farci delle domande, anche se, sia le scade tecniche che la mia spiegazione, penso che siano sufficienti a farvi ben comprendere questo camper, per poterlo acquistare e farvi delle bellissime vacanze. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!